Lo sviluppo economico di un territorio deve passare necessariamente da uno sviluppo infrastrutturale, da infrastrutture e trasporti adeguati. Ne parliamo con il dottor Luigi Laterza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Sì, assolutamente. Purtroppo dobbiamo denunciare in questo periodo, in questo quinquennio, un assoluto abbandono da parte della regione di quelle che sono le infrastrutture. C'è proprio stata una mancanza di programmazione, vuoi per l'aspetto ferroviario, sappiamo tutti quello che è accaduto circa le linee che sono state soppresse per il collegamento di Taranto con i centri maggiori italiani. Vuoi l'aspetto viario, basta farsi una passeggiata sulla Litorania nella zona orientale della provincia per comprendere in che situazione siamo omessi da un punto di vista viario. Per non parlare poi dell'aeroporto di Grottaglie che è stato preso in considerazione, sembra quasi una battuta da Zelig per i voli suborbitali, mentre noi avremmo bisogno dei voli ben più bassi, quelli che possano portare i turisti nella nostra zona in maniera ben organizzata. Grazie